La presenza dei cinghiali nelle campagne del Casalasco ormai non stupisce più, anche se ogni volta che una nuova foto, o meglio un nuovo video, appare confermando il passaggio dell'ungulato selvatico nei campi della bassa padana, la curiosità non manca mai. Nei giorni scorci un agricoltore di Motabalufi ha registrato, con un breve video girato dal telefonino che qui proponiamo, il passaggio di tre diversi esemplari di questo animale autoctono dell'Appennino, non certo della pianura, mentre si muovono in zona agolenale in una giornata molto piovosa. Uno degli animali risulta occhio più grande degli altri, resta da capire se si tratti della madre oppure, per così dire, di un fratello maggiore. Al di là della curiosità suscitata dal video, l'allarme resta alto in particolare tra gli agricoltori che vedono i raccolti minacciati dalla presenza del cinghiale che a causa dell'uomo ha cambiato via via le proprie abitudini, modificando anche il proprio habitat e spostandosi dalle montagne per scendere a valle. Segnalazioni si sono intensificate negli ultimi mesi a Martignana di Poi, Torricella del Pizzo ad esempio, dunque in piena Golena-Casalaska, parte del territorio che più di altre ha subito il passaggio dei cinghiali, con pericoli anche alla circolazione. L'ultimo incidente in ordine di tempo si è verificato la sera di Santo Stefano lungo la strada asolana tra Martignana e San Giovanni in Croce, con due auto coinvolte dopo che una delle due ha investito l'animale senza dare l'allarme o rimuoverlo dalla carreggiata. Non va dimenticato anche l'argine chiuso per quasi due giorni a Torricella del Pizzo, sempre per il pericolo di attraversamento cinghiali. In tutto questo si registra la posizione dell'associazione Una Uomo Natura Animali di Cremona, che chiede di evitare mattanze sia di cinghiali che di nutrie e di utilizzare metodi più ecologici e non cruenti per evitare il sovrappopolamento. Vi sarebbe infatti anche la sterilizzazione da tenere in considerazione e a tal proposito è giusto ricordare la proposta dell'allora senatore Giacinto Boldrini di Roncadello, che proprio di distribuzione di esche e sterilizzanti parlò in Senato prima che il governo Monti cadesse e non se ne facesse più nulla, una soluzione che prometteva di risolvere il problema nel giro di tre anni, almeno per quel che concerne le nutrie, ma che si face ancora in un cassetto da qualche parte a Roma.